Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Ma in realtà la coppia non potrà più lasciarlo fino a quando non avranno cresciuto un bambino che viene loro affidato. Ecco, partiamo dal presupposto che non consiglio questo film, se non ai fan più accaniti degli attori principali, che sono Imogen Putz e Jesse Eisenberg, oppure ai fan del thriller psicologico. Allora, la fotografia è intrigante, come ti dicevo, gli attori fanno delle ottime performance e delle belle interpretazioni. Il film non risulta nemmeno noioso, il problema cardine è che una volta arrivati alla fine è la realizzazione, che risulta essere molto approssimativa. È proprio un film mal riuscito, sebbene ci fossero dei presupposti piuttosto accattivanti. Quindi, praticamente, il film ruota attorno alla demonizzazione della vita perfetta. E come sappiamo, questa concezione della perfezione della famiglia, della perfezione di una certa vita, è un tema con cui molti registi si mettono alla prova. Cioè, si rappresenta da primo un luogo perfetto, pulito, ordinato, omologato, in cui tutti gli eventi scorrono in una routine molto rassicurante per i personaggi. Una routine anche ben rodata, se si vuole. Nonostante la proposta possa essere allettante, durante lo svolgimento della storia traspare sempre quanto questa perfezione sia solo apparente, e in molti casi inquietante. Come, ad esempio, avviene nella Donna Perfetta, Edward Mani di Forbice, Pleasantville, e anche in film per bambini e ragaffi come Zombies, della Disney, o la famiglia Adams del 2019. Ecco, Vivarium purtroppo dimentica dei pezzi fondamentali per la strada. Cioè, a parte la raffigurazione di Yonder come un quartiere perfetto e tranquillo, che rispetta i canoni di chi vuole affrontare questo tema, è impossibile che lo spettatore in questo film si adagi anche solo per un momento al pensiero che questa bella vita possa andare a genio. Cioè, qui non traspare mai questa cosa. Il film, secondo me, rassomiglia moltissimo ad un cortometraggio che si chiama Cittadino Modello. Ecco, io penso che Vivarium volesse esprimere il pensiero che era chiuso in questo cortometraggio, che per quanto inquietante sia, è molto ben espresso. Invece Vivarium tenta di fare la stessa cosa, ma con scarsissimi risultati. E risulta essere un vero peccato, perché come ti ho detto, le premesse giuste c'erano. Magari ti parlo alla fine del perché non è riuscito, perché ho bisogno purtroppo di farti qualche spoiler, e se per sbaglio ti capitasse di volerlo vedere, non voglio rovinarti nulla. L'altro film, sempre del 2019, sempre un thriller psicologico, è il famosissimo Il Buco, un film che è stato molto, molto chiacchierato su Netflix, un film spagnolo. La trama qui è questa, in una prigione che si sviluppa in verticale, ogni cella ospita due detenuti, ed è chiamata Livello. Questi livelli vanno dall'1, oltrepassando il 100. Dal livello vero scende tutti i giorni, passando per un buco, appunto, in mezzo a queste celle, una piattaforma allestita con un sacco di cibo prelibatissimo. I detenuti hanno una manciata di minuti per consumare tutto il cibo che vogliono, prima che la piattaforma prosegua la discesa. I livelli inferiori, ovviamente, consumano ciò che è stato lasciato da quelli superiori, e ogni mese si cambia di livello, ogni mese i detenuti vengono spostati e possono finire più in alto o più in basso. Ma arriva effettivamente del cibo ai livelli più bassi? E quante celle ospita questa famosissima prigione? Allora, l'idea è geniale. La regia è sviluppata bene, trasmette ansia e molta claustrofobia, perché le inquadrature sono molto strette, l'ambientazione rimane sempre invariata, e vieni molto catapultato all'interno del contesto. È proprio l'ideale per gli amanti di questo genere. Ti consiglio di guardarlo con la consapevolezza che non vedrai qualcosa che ti farà stare sereno. Perché ti consiglio di guardarlo? Il film è di forte impatto, con un contenuto socio-politico molto importante. Anche se non piace il genere, è un film che offre grandi spunti di discussione e di riflessione. Ecco il motivo principale per cui te lo consiglierei. Poi tutti i personaggi introdotti gli danno la possibilità di analizzare differenti punti di vista, differenti modi di ragionare e di agire in un contesto simile. La fotografia è accurata, adeguata. Gli unici piccoli punti di colore che ci sono, pensa, vengono dati dagli interruttori che scandiscono l'arrivo del cibo e dal cibo stesso, rappresentato con dei colori molto molto più luminosi. Per il resto, i filtri che vengono utilizzati rendono l'atmosfera molto marcia, cupa, opprimente, quindi tutto adatto alla tipologia del film. La colonna sonora, in linea, crea moltissima atmosfera incalzante, ansiosa, di tensione. Non ho apprezzato molto la versione originale, perché i doppiatori italiani, secondo me, aggiungono molto più spessore ai personaggi rispetto agli attori che recitano in lingua spagnola. Non so, ma sentendoli in lingua originale, i personaggi risultano molto più piatti. I nostri doppiatori riescono a dare più colore all'espressività che già hanno gli attori, grazie alla loro voce e da come utilizzano la voce nel doppiaggio, cosa che purtroppo non accade per come gli attori utilizzano la voce recitando nel film, a mio parere. L'ultima cosa che ti posso dire è che una delle critiche che io muovo va anche alla traduzione italiana del titolo. Letteralmente, quello originale sarebbe Heloio, che significa la fossa. E non solo non corrisponde al titolo italiano, perché nel film l'apertura non viene mai chiamata il buco, bensì la fossa. Quindi non capisco il motivo di utilizzare questo sinonimo. Meglio allora optare per la traduzione inglese che è The Platform, la piattaforma molto meglio. Quindi, ti dico, non lo classifico come un film che mi è piaciuto, però sicuramente come un film che mi ha colpito e che ha lasciato un forte segno. Partiamo con gli spoiler del buco e poi ti parlerò invece di quelli di Vivarium. Allora, in questo film c'è una fortissima simbologia biblica. In tanti, infatti, hanno colto la metafora del paradiso, ma soprattutto dell'inferno. Cioè, il paradiso viene rappresentato dal livello zero, in cui vengono preparati i cibi preferiti dai detenuti e l'allegoria è quindi collegata ai desideri e alle passioni di ogni uomo. Ad ogni recluso, infatti, all'ingresso viene chiesto quale sia il suo cibo preferito appositamente per poterlo posizionare ogni giorno sulla piattaforma. E qui prende vita il gioco perverso che tramuta il paradiso in inferno, perché i cibi favoriti spesso non raggiungono mai i loro destinatari. Il carcere va peggiorando, scendendo verso il basso e quindi ciò testimonia la discesa agli inferi. E poi, se vogliamo, il numero dell'ultima cella è 333, che moltiplicato per i due detenuti in ogni livello dà come risultato 666. Il finale è aperto e lascia spazio alla libera interpretazione dello spettatore, nonostante a me siano rimaste moltissime domande. Ad esempio, la bambina è davvero figlia di Miharu? Se sì, come ha fatto a sopravvivere per tutti questi mesi, forse che la donna tutti i giorni scendeva fino all'ultimo livello tenendo il cibo per lei, ma come riusciva a poi risalire senza arrivare a tutta velocità a livello zero e senza volare via della piattaforma? La storia di Miharu che vaga per il carcere alla ricerca del figlio, secondo me, presenta diversi limiti. Oppure, che sia il sistema che ogni mese sacrifica un bambino nell'attesa che arrivi il messaggio sperato e forse ha più senso e rende ancora più sadico questo esperimento. Cioè, se i detenuti sapessero che sono presenti dei minori all'interno del carcere, sarebbero più facilmente spinti alla condivisione del cibo. Non so. Poi, la bambina che torna in superficie è davvero il messaggio giusto? Come fanno gli ideatori a sapere che lei non è salita sulla piattaforma da sola per curiosità e per fortuna è rimasta lì? Il protagonista che arriva alla fine, la domanda che magari molti si chiedono muore? Semplicemente si lascia andare ed abbraccia in tutto e per tutto tutte le sue allucinazioni? Come vengono spostati i detenuti da un livello all'altro? Che la piattaforma non sembra essere troppo comoda per questo scopo, però, in effetti, sembrerebbe l'unico modo. Non ci sono altri ingressi all'interno delle celle. Come fanno a spostarli? E poi, come fa la cella a riconoscere la trattenuta del cibo dato che non ci sono videocamere? Come mai quando un detenuto tiene il cibo per sé, la piattaforma inizia a scendere? Perché vediamo persone che continuano a mangiare mentre la piattaforma scende, dunque, non può dipendere dalle differenze che ne so, di peso in quel momento. Non so, ecco, queste sono domande principali che mi sono rimaste. Invece, secondo me, l'elemento principale per cui Vivarium non è riuscito è che questa coppia intrappolata a Yonder non si adatta mai alla nuova vita e non ne gode per niente i benefici. La vita perfetta si presuppone che le persone che ci stanno dentro se la godono ci stanno bene all'interno e poi dopo vengono a scoprire che questa perfezione è finta e in realtà non gli dà quello che cercano, non gli dà la felicità sebbene sia così perfetta. Quindi a questi due futuri genitori non viene dato un lavoro o strumenti necessari per sviluppare un hobby o degli interessi. Quindi i due non arrivano mai ad amare questa vita o a cercarne lati positivi. Questa vita non appare perfetta da nessun punto di vista. Cioè io spettatore l'ho compreso che quello era il tentativo però una vita per essere perfetta deve contenere tutti gli elementi un lavoro appagante degli hobby appaganti degli amici che ti soddisfano un partner che ti soddisfa mentre invece qui i due crescono il bambino in un contesto del tutto malato proprio perché è privo quasi del tutto del substrato sociale cioè le coppie imprigionate in questa dimensione bizzarra non si relazionano le une con le altre convivono tutte le coppie in dimensioni parallele e solitarie ma senza saperlo in questo quartiere vediamo solo i due protagonisti che non hanno mai un'interazione con nessun altro se non con questo bambino quindi come fa a poter essere una vita perfetta una vita da godersi come possono fare loro a crescere al meglio il bambino come fa un bambino a crescere in un contesto simile perché allora creare Yonder se non genera individui in grado di vivere nel mondo perché ci viene detto alla fine che Yonder serve per generare questi innumerevoli agenti immobiliari che poi porteranno una sorta di appunto vivaio per altri agenti immobiliari che poi porteranno altre persone all'interno di Yonder ma è tutto totalmente inutile che a che cosa serve creare costantemente persone così cattive agenti immobiliari che poi rifaranno lo stesso lavoro e che seppelliscono coppie su coppie sembra tutto molto stupido quindi se si voleva descrivere la vita perfetta e proseguire insomma con questo format che vediamo in tanti film la cosa non è riuscita assolutamente quindi accantonato inoltre io non ho capito lo scopo del film che può essere thriller psicologico si ti metti in agitazione eccetera eccetera ma rimane molto fine a se stesso come molti horror potremmo dire come altri thriller psicologici che finisci e dici beh e quindi ribadisco il buco è un ottimo spunto di discussione facilmente trattabile in un cineforum in una discussione fra amici perché ti dà tantissimi spunti Vivarium è proprio un tentativo fallito di fare un thriller psicologico sensato io quindi lo accantonerei senza colpo ferire non ne vale proprio la pena di spendere del tempo con questo film alla prossima cara grazie di avermi ascoltato grazie di avermi ascoltato